Ah, guarda qui che bel piatto di pasta che ti ha preparato la tua mogliettina, la pommarola. Ah, la pasta con la pommarola è in coppa, quanto è buona! Questo è il piatto! Mamma mia, pigliate un po' ancora! Ah, che buona! Un'altra, un'altra! Aspetta! Eh, andiamo! Eh, andai! Ah, che buona! Ah, che buona! Oh, mio caro, ma che si bene! E' un'altra, mia pataglia! Oh, ecco! Ah, it's me! Mio caro Iman, quanto sono contento! Ma che bella sorpresa! Ero a tanto tempo che aspettavamo questo momento e io mi ho sempre voluto bene come ad uno pigli! Oh, c'è! Ero a tanto tempo! A tutti e due amore ed accorto! Oh, al che! Raccattami! Silvia, il cielo ti mostrerà! E santo cielo, ma che cazzo gridando? Non è che gridando proverete proprio nulla? OLGA! Io ricordo, ma che cosa ricorda? Scusate, ma ho le palpitazioni, non mi legge più questa gamba! Le palpitazioni, le palpitazioni, ma che cazzo restete? Voi dovreste starveni in cucina, seduto vicino al camino a schiacciare il caravaggio piuttosto che andare a guidare voi! Le palpitazioni... OLGA! Portateli un bicchiere d'acqua! No, OLGA! Dategli un babà! Un babà! Un babà funziona sempre! Ma uno solo, eh? Non ne voglia mettere un rum! Chi nasce strunz non può divintare un babà! Ivan, piglia testa un babà! Ivan! OLGA! OLGA! Non mangia! Non mangia! Non mangia! È morto! Oh, che mi cazzo! Che cosa c'è la verità! Oh, non lo ho finito! Oh, datemi un sottello! E mi sparrerà il fronte! Datemi un gabbio... E mi impicherò! Sono malattivo! Stai venendo! Non lo ho finito! Oh, non lo ho finito! Stai venendo! Sono venendo! UBERATO! UBERATO! Grazie.